Molto bene, sono molto contenta di essere qui. Mi aspetto tanto entusiasmo perché è quello che sento qui e spero di trasmettere il mio, un po' di determinazione ma soprattutto qualche buon consiglio di ciò che ho imparato sulla mia pelle. Io sono cresciuta in un paesino molto piccolo del sud Italia e non è stato semplice, come dire, gestire la propria personalità sembrerà assurdo e sembra un luogo comune, non lo è e non è una critica è semplicemente ciò che è avvenuto, è stato difficile accettare a toto il bene e il male della propria personalità in toto e questo quando ho iniziato a scrivere ho iniziato a emanciparmi ecco dal posto in cui ero nata ho scoperto me stessa e sono sicura che questo sia il messaggio più profondo che posso trasmettere a qualcuno. Il posto da cui vengo mi ha dato tanto calore cioè nel senso penso che la mia musica e la mia personalità siano molto appassionate e questo deriva, non è un merito mio ma della terra da cui provengo perché crescendo mi sono resa conto che tante mie reazioni sono appassionate, quindi non solo la musica e quindi questo per esempio in questo caso è stato un bene, no? Quindi non sempre da dove veniamo può essere classificato nel bianco o nel nero ci sono dei gap che devi superare se vieni in un posto ci sono dei gap magari emotivi o di contenuto se vieni da un altro una città che può sembrare più florida può toglierti della creatività quindi la cosa importante secondo me è chiudere, veramente chiudere gli occhi cinque minuti al giorno seduti al sole e cercare di trovarsi e poi seguirsi È fondamentale, io quando ero piccola ho sempre desiderato poi non ho mai avuto l'opportunità di partecipare al giffone lo guardavo come una cosa, come una specie di boccata d'aria che c'era d'estate e quindi penso che per i ragazzi che sono qui questo sia motivo di arricchimento infinito una cosa che non si può comprare Per me, lo dicevo anche prima, la tranquillità, la serenità e essere connessi con se stessi è fondamentale per la mia musica l'ispirazione perché altrimenti sono uno di quegli artisti del poco ma buono cioè se non sono ispirata trovo difficoltà e fastidio nell'esprimere qualcosa perché poi non lo sento mio e quindi essere ispirati o trovare il modo di esserlo è indispensabile Ciao Giffoni, ciao Giffoners, sono Lolita, vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo